ciao a tutti e benvenuti sullele king tv quest'oggi faremo il cello mi manca della corta calciatori 2019 2020 queste sono le figurine dello spacchettamento di domenica se vi siete persi il video andate a cercare nella playlist calciatori 2019 2020 sul mio canale o altrimenti andate sulla id informazioni e trovate il video in allegato altrimenti a termine del video è sicuramente nei video consigliati a termine del video detto questo ragazzoni seguitemi anche sugli altri social tra cui tiktok instagram e twitch basta cercare lele king tv mi trovate su tutte queste piattaforme perché stiamo andando in live sia su youtube sia su twitch a volte in contemporanea altre volte solo su twitch altre volte soltanto su youtube però a me mi fa piacere se mi seguite anche su twitch cercate di seguirmi anche lì così arriviamo presto anche a un bel numero di persone che mi seguono anche su twitch ne sarei felicissimo ragazzuoli siamo pronti a iniziare questo cielo mi manca qui ci sono le figurine di domenica come ho detto ma c'è anche delle figurine in più che è un pacchetto di gommaglie coperto in live durante una live ho aperto un pacchetto di gommaglie e queste figurine sono finite in mezzo a queste per fare il cielo mi manca quindi ci sono delle figurine in più che non avete visto nello spacchettamento di domenica questo lo dico perché molti di voi sono molti molto attenti e magari possono trovare la differenza dire ma queste figurine tu le trovate se domenica non le spacchettate ecco che questo è il motivo quelle sono state spacchettate nella live di venerdì sera che abbiamo fatto insieme perché mi è stato chiesto da voi di aprire un pacchetto di gommaglie e io così ho fatto allora detto questo iniziamo subito la prima figurina abbiamo trovato è dell'atalanta e marino vischi ma mi pare che ce l'ho 21 eccolo infatti è doppione iniziamo subito insomma male poi l'autobus dell'atalanta uguale altro doppione non c'è stati bene momentaneamente bologna non abbiamo trovato nessuna figurina andiamo al brescia dove ne abbiamo trovate qualcuna in più tra cui magnani che è doppione eccolo spalec con l'ottanta che ce l'ho qua sotto ok e invece super mario balotelli con l'ottantacinque e questa ce manca e va qui bene super mario ex giocatore dell'inter del milan e poi ha giocato anche all'estero ok andiamo avanti con il cagliari qui non abbiamo trovato niente ma abbiamo trovato la formazione dietro e questa ci manca la 116 va lì sopra va lì sopra la 116 ci manca meno male è la seconda quindi finiamo la seconda parte dell'inter non quella dove ci sono tutti i calciatori ma la parte dietro dove ci sono le figurine speciali troviamo l'altra mezza formazione che ci fa terminare questa pagina quindi del cagliari ci mancano tre figurine che sono queste quattro avanti tra cui rajan angolan andiamo avanti e andiamo alla fiorentina dove non abbiamo trovato ugualmente nessun calciatore abbiamo trovato la maglia della fiorentina che ce l'abbiamo così come la parte posteriore dell'autobus della fiorentina che è molto molto bella l'ho detto già in altri video molto molto bello l'autobus della fiorentina forse più bello in assoluto poi del genoa abbiamo trovato la 170 la 177 del cagliarino del genoa e del genoa e cavolo sto dicendo del genoa ce l'ho l'autobus questa parte qui manca la 178 andiamo avanti andiamo all'ellas verona dove mancano tantissime figurine abbiamo trovato soltanto la 198 che tutino e ce l'ho tutino ce l'ho quindi è doppione tutino caro tutino sei doppione tutino dell'inter mi manca sensi e finire la parte con i calciatori poi manca la mezza formazione la maglia e l'autobus della juventus non riusciamo a trovare figurine della juventus tra cui mi manca cristiano ronaldo qualcuno di voi mi ha detto che sono l'unico youtuber che non ha trovato cristiano ronaldo e io non l'ho trovato ragazzoni mi manca cristiano ronaldo eccolo qui ho trovato quella speciale con buffon ma non ho trovato la figurina classica di cristiano ronaldo poi andiamo alla lazio lo abbiamo trovato milinkovic savage col 283 ce l'ho doppione poi abbiamo trovato al 294 l'autobus altro doppione qui c'è un altro doppione perché me lo ricordo perfettamente infatti doppione 303 brian vera che ce l'avrò non lo so forse 50 volte questa figurina brian vera andiamo avanti e andiamo al milan dove ho trovato biglia col 336 che doppione però poi trovo suso che non è più al milan col 343 e questa mi manca perché va qui suso eccolo suso e l'abbiamo attaccato quindi suso sta a posto qui del milan mi manca castiglieco dovrebbe essere quello e lo stemma e nella parte dietro invece ce l'ho tutto quindi mancano due figurine soltanto per completare il milan il navoli è una delle squadre di cui stiamo messi male però abbiamo trovato almeno la 379 che sono di lorenzo e mertens nella figurina speciale questa l'abbiamo trovata anche con suso nello spacchettamento della gommaglia che abbiamo fatto venerdì sera in live poi ragazzi sapete che con con il napoli stiamo portando la master league con maratona allenatore e quindi che dire del parma non abbiamo trovato niente andiamo alla roma dove abbiamo clai vert che ce l'abbiamo eccolo justin clai vert altro doppione 456 l'eris della samp giocatore francese cielo ramirez con il 457 invece ci manca che va qui sotto quindi almeno questa l'abbiamo trovata gaston ramirez ecco poi abbiamo federico bonazzoli col 458 che va qui questa è un'altra mancante diciamo che con la samp trovando due figurine abbiamo fatto un balzo in avanti perché così mancano tre figurine a questa parte poi vediamo nell'altra perché poi abbiamo trovato anche fabio guagliarella fabio guagliarella ce l'ho quindi doppione nella parte dietro ce l'abbiamo tutte quindi praticamente mancano soltanto quelle figurine vi ho fatto vedere adesso poi del sassuolo abbiamo trovato più nessuna figurina da perché non troviamo più figurine del sassuolo anche se l'abbiamo quasi completato il sassuolo manca la parte dietro soprattutto però è davvero che io non troviamo più figuri nel sassuolo poi 515 ci manca che fares della spalla ok poi abbiamo del torino la 538 ma ce l'abbiamo eccolo 538 ce l'abbiamo e passiamo all'utinese dove abbiamo trovato un po di figurine però nicolas sicuramente ce l'ho e infatti eccolo 561 nicolas ce l'ho il danese l'arsen col 562 invece mi manca questo abbiamo trovato domenica mandragora col 571 ce l'ho e adesso dobbiamo passare alla serie b ragazzuoli poi avete visto anche il video penso di del film del campionato con le figurine da c 15 a c 17 sono uscite sabato io ho fatto il video se non l'avete visto da cercare sempre sulla playlist dei calciatori panini 2019 2020 del mio canale c'è anche questo video con queste tre figurine di questo aggiornamento le prossime dovrebbero uscire il 9 maggio ok questo l'abbiamo fatto del calcio mercato sappiamo tutto quanto calcio femminile passiamo alla serie b dobbiamo andare per prima cosa al cosenza cosenza abbiamo trovato la formazione e ce l'abbiamo poi cremoni se abbiamo trovato 636 ce l'abbiamo con ragazzi ravaglia e dos santos andiamo all'empoli con la formazione a 650 altro doppione livorno dobbiamo andare al livorno quindi frosinone juve stabia al livorno ce l'abbiamo completo quindi queste doppione eccola qua poi pordenone col 703 quindi saltiamo a pescare saltiamo al pisa andiamo al pordenone e questa ce l'abbiamo che la formazione è doppione poi abbiamo trovato la 706 che invece ci manca dove c'è almici camporese e pasa poi dello spezia abbiamo 720 che ci abbiamo eccola poi virtus centella la 742 ma virtus centella ce l'abbiamo completa eccola qua comunque questa la 742 andiamo agli allenatori dove abbiamo trovato la 761 che ce l'abbiamo con nesta e caserta e la 762 con breta e oddo altro doppione ragazzi per questo ce lo mi manca è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti